buongiorno a tutti adesso con questo breve filmato cercherò di spiegarvi anzi vi farò vedere l'ultima realizzazione che ho progettato e costruito per quello che riguarda le luci stroboscopiche del mio velivolo ultraleggero è venuto talmente bene che ne ho realizzati alcuni prototipi che vi propongo per vedere se qualcuno è interessato diciamo all'installazione di questo tipo di impianto allora tutto il kit è montato all'interno di questo scatolotto c'è una piccola centralina elettronica ci sono collegate le due luci stroboscopiche che ho realizzato con il lexan e attraverso un stampo a caldo e la circuiteria elettronica è collegata alle lampade attraverso cavi e dei plug dei plug che servono appunto per il collegamento per il montaggio effettivo sulle ali la particolarità di questo tipo di circuito è che alimentando l'apparato da 9 a 18 volta i tempi di flash sono sempre costanti e in più come diciamo abbellimento scicheria come vogliamo dire ho previsto anche le luci di posizione perché ho notato che parecchi parecchi quasi tutti gli ultraleggeri che ci sono sui vari campi dispongono sì di luci flash di luci stroboscopiche però nessuno ha le luci di posizione per esempio è una scicheria quando riscaldi l'aereoplano riscaldi il motore e rimani 10 15 minuti a bordo pista eccetera eccetera quindi ho aggiunto anche questa possibilità allora ho alimentato tutto 12 volte in questo momento con un alimentatore del laboratorio e queste prove le sto facendo in laboratorio ma ho fatto anche delle prove sul vivo e allora il primo diciamo la prima parte di circuito eccola qui è le posizioni la posizione che adesso ho previsto questi questi led per farvi vedere poi naturalmente possiamo cambiare anche i led e mettere i rotondi o un'altra cosa o sostituirli addirittura con lampade e quindi questa è la posizione di attesa ovvero luci di posizione come si nota una luce verde sulla sulla destra e le luci rosse sulla sinistra e poi quando sei in volo prima del decollo ecco che tu passi in flash e quindi rimane accesa la luce di posizione in più c'è il flash per i diciamo le luci stroboscopiche di navigazione ho aggiunto questo piccolo questa piccola variazione sulla circuitazione perché in fondo è stata semplice non è onerosa dal punto di vista e come si vede vediamo se riesco a farvi vedere gli assorbimenti sono molto bassi qui adesso siamo sotto l'ampere di di consumo di corrente quindi sotto ampere vuol dire che siamo molto molto diciamo bassi il peso di tutto è relativamente anzi è bassissimo il peso quindi non consumano corrente pesano poco e vanno bene credo di aver fatto un qualcosina di valido se qualcuno lo volesse adottare magari se ne può parlare e eventualmente si possono anche personalizzare sia le forme che i tempi di lampeggio o qualsiasi altra cosa bene grazie a tutti e ci sentiamo presto ci sentiamo e ci vediamo presto bene allora completamento di quanto ho spiegato prima sulla centralina con le luci di posizione ho realizzato anche un circuito sempre un'altra centralina elettronica soltanto per le luci strobo per tutti quegli aeri ultra leggeri o paramotori o delta o qualsiasi cosa che non necessitano poi in fondo di luce di posizione ma soltanto di luci strobo allora qui vediamo praticamente le due lampade destra e sinistra alari più la terza lampada che va sulla coda come dicevo anche per questo impianto è tutto modificabile è tutto praticamente tarabile sia come tempi di accensione che come potenza luminosa in questo momento stiamo facendo un uso di 12 12 volt e mezzo con circa 900 mili ampere che sono 6 watt grossomodo come come potete vedere vediamo ecco qua la potenza luminosa è notevole effettivamente molto molto potente ed è visibile da molto lontano quindi credo che anche questo tipo di circuito anche se più semplice un pelo meno costoso possa andar bene per i piccoli ultra leggeri e per tutti i velivoli diciamo che non hanno grandi prestazioni di quota e velocità ecco grazie di tutti di nuovo e buona giornata